ecco qua siamo sulla seconda salita dell'ultracycling 2018 passo san boldo in questo momento siamo sotto alle gallerie prima di fare gli ultimi due chilometri quali sono i più impegnativi di questa salita una salita lunga otto chilometri circa non tanto impegnativa dal 6 7 per cento a parte appunto l'ultimo strappo che è un po più impegnativo una salita di casa panoramica molto bella e speriamo ci sia il sole fa un po più caldo grazie a tutti grazie a tutti